Finalmente l'incontro a Trieste, ragazze, ciao ragazze, intanto non riuscivo nemmeno a salutarvi dall'emozione, dovevo dirvelo subito, già lo saprete dal titolo naturalmente, ma sono eccitatissima all'idea finalmente di avere un incontro a Trieste, lo state aspettando da secoli, io lo so, l'ho sempre saputo, ma ho dovuto aspettare di avere l'occasione giusta e finalmente l'occasione giusta c'è, quindi l'incontro vi dico subito dove, quando, come, perché, Allora, l'incontro sarà in Trieste, galleria Trieste, nella libreria UBIC, UBIK, la libreria UBIC del Trieste, quindi praticamente entrate da Piazza della Borsa, che bello dire queste informazioni della mia città, entrate da Piazza della Borsa nella galleria Trieste, là dentro troverete la libreria che si chiama UBIC e lì dentro ci sarà il mio incontro, quindi sarà la presentazione del mio libro, ecco perché l'incontro sarà in libreria, Ma ragazze, possono entrare tutti, tutte, potete entrare se avete il mio libro e volete che io ve l'autografi, oppure se non avete il mio libro e volete comprarlo, oppure se non ce l'avete e volete venire solo per salutarmi, per dirmi ciao, per dirmi che mi seguite o anche solo se volete vedervi dal vivo e siete curiosi, insomma, tutte potete venire e sono felicissimissimissima, quindi, Allora, 29 aprile, quindi a fine mese, 29 aprile dalle 18 alle 20, quindi fino alla chiusura, dalle 18 in poi, sono lì, quindi 29 aprile dalle 18 alle 20, galleria Tergesteo UBIC, centralissima posizione, quindi sono felicissima, Non vedo l'ora di incontrarvi tutte, naturalmente non c'è niente da pagare, che sempre mi viene chiesta sta roba, non ci penso mai a dirlo, ma naturalmente non c'è niente da pagare, possono entrare tutti e tutte, gratuito, venite a salutarmi, Io sarò lì, naturalmente non me ne vogliano tutte le altre ragazze di tutte le altre parti d'Italia, di tutte le altre parti del mondo, ma naturalmente ho un debole per Trieste, essendo che è la mia città, E quindi sono particolarmente emozionata di conoscere le mie follower, le mie amiche virtuali Triestine, quindi non lo so, è bellissima questa cosa, quindi, niente, non so che altro dire, veramente, sono troppo emozionata, io vi aspetto, Quindi, ricapitolando, alla libreria UBIC, il 29 aprile, dalle 18 alle 20, spero che veniate in tante, non vedo l'ora di incontrarvi voi amiche Triestine, quindi, vi mando un bacio mega galattico, scrivetemi nei commenti, se venite, chi viene, se non venite, insomma, se per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti, vi mando un bacio gigantissimo, e ci vediamo prestissimo, ciao! Grazie a tutti!